Ben tornati ragazzoli con il vostro Mitsu Diving Within, oggi ho iniziato il video qua perché ho appena trovato la balestra Agonia con i colpi esplosivi da quel che ho capito adesso insomma niente cerco una via di uscita dato che non sono ancora riuscito ad andare dall'altra parte e poi insomma ci rivediamo quando l'ho capito come oh 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 cos'è questo? oh mio dio non ci credo il fucile a pompa quante munizioni ha? fatemi vedere 4, 8 munizioni? ok a posto qua una accetta vabbè intanto vado avanti eh dove siete? dai che c'è una accetta non mi fate paura con un colpo morite con l'accetta eh da qui ho capito ragazzoli che bisogna se vi faccio vedere ottimo eh da quel che ho capito eh ok boh quindi dobbiamo andare a killare il coglioncello là grosso, brutto, cattivo, un puzzone che ha la motosega adesso te schioppi la e anche te schioppi vieni giù un po' di più bravo bravo no troppo troppo no Mitch non sbagliare queste cose la ok eh non serve vero no questa voglia anche qua ci sono punti di esperienza ok teniamo oh come è pieno dai ok motivi in più per provarne uno là c'è qualche zombo qua nessun zombo proprio zombo là è una statuetta ragazzuoli una statuetta sono le chiavette là come faccio ad arrivare là sopra là soprattutto dai dai una pedata cosa cosa c'è dai oh come ci è riuscito così in fretta una mano mi farebbe comodo la prego facciamo in fretta dobbiamo trovare Leslie che roba era quella lì ah un kit medico ok quindi ci riparano tutto insomma oh cosa c'è posso guardare fuori che bello è una meccanica bellissima questa aspetta no voglio vedere se c'è qualcosa nel cassetto non c'è niente ok qua ok da voglio sparare un colpo di fucile a pompa qua ci siamo già stati vero eh si vabbè ma dai ma mi pare che mi tocca sprecare il fucile a pompa vabbè ah pieno addirittura quindi devo sprecarne un altro e adesso vediamo ah ok non mi andava di lasciarli lì insomma eh e poi ti danno il fucile a pompa non hai ne ancora vabbè siamo stati ehm prepara dardo adesso ho capito quelli là ci saranno per quindi se noi facciamo ma riusciamo a farlo esplodere oh cazzo che figata assurda aspetta mettiamo la pistolina adesso ah no no sta indietro sta indietro no eh la proezza di miccio oggi mi sorprende ok tiriamo su tutto là 300 qua ah anche qua punto di esperienza ok chi è che ci sta guardando allora ragazzi al primo qua abbiamo visto che c'era eccola là come faccio io devo per forza prenderla con la pistola ah ok uh che belle ste cose e qua eh volete fregarmi eh ok una fatta altre lì c'era un'altra l'ultima volta sono imploso quando mi sono avvicinato a ste cose qua quindi mi devo stare attenti ok andiamo vicino bra ok hai preso un'altra che figata comunque quelle cose lì i dardi madonna qua dietro c'è nessuno sì mi ha visto qualcuno non so dove eccola mori no dai no oh la finiti qua dietro cosa c'è ho paura delle trappole per terra ah ok là ce n'è uno però se io mi avvicino pianino dovrei riuscire a prenderlo senza sprecare colpi giusto vediamo ok hai preso un forziere dai veramente vediamo aprire i screen che figata che cazzo ci sarà dentro eh ah quindi ok forse non sono stato tanto attento però da quel che ho capito no guardate c'erano anche i colpi del fucile a pompa adesso andiamo a sprecarlo eh dobbiamo stare attenti quando apre il forziere così vediamo se c'è una trappola e dopo dalla trappola appena vediamo che tipo fa la lucità rossa lo rilasciamo il pulsante giusto vediamo se ce ne sono altri qua per terra niente no ok ah là ci sono colpi però come faccio ad arrivare là posso andare su ah si questo cos'è ah ok quindi altri per eropioni va bene se noi entriamo qua adesso madonna ci sono un po' di segreti però su sto gioco è figo cazzo allora ok lo facciamo esplodere da sopra cazzo con una bomba o vediamo un attimo allora qua apriamo chi è che ci ha visto? quanti sono? spero uno ah ok è uno la muori dai muori e basta dammi qualcosa non so un po' di fiammiferi che me ne manca niente proprio niente mi ha dato ok fiammiferi qua qua cosa c'è? la siringa qua distruggiamo un po' mamma i cali di frame la xbox poverino ormai è le ultime oh 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 problemi hai? che ragazzole qua abbiamo tirato su tutto andiamo giù adesso proviamo a far esplodere lui speriamo di non morire neanche stavolta perché allora dai proviamo mettiamo prima la balestra ok eccola qua e ne abbiamo quante se io creo no pieno vabbè ne abbiamo tre però possiamo ok cambia questo è che cambia non so chi sia più forte di due sinceramente proviamo con questo vai se cazzo glielo tiro proprio in buca no? carico e io tiro un altro carico e dai un altro un altro ok voglio vedere è morto no e ancora no e ancora e neanche quanto duro è? dai vieni su ma dove sei? gli altri mi sa che li ho killati tutti gli zombie anzi te tua mamma dai vieni qua puzzolenti anche lei allora vieni qua no 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 ok è morto uh che figata posto cos'è successo? chi sei te? ah è quella là all'inizio adesso non la ricordo quanta cosa ci dà? devo assolutamente resistere 5.000 ci ha dato voglia allora ragazzo io direi mi avvicino sul punto dove possiamo passare al prossimo capitolo dopo spero di poter andare a prendermi qualche arma nuova con le chiavette lì che abbiamo preso ultimamente che ragazzoli ci siamo proviamo si dovrebbe andare è un po' grossa come catena sembra un po' una cosa irreale però allora è vero cazzo mi ero dimenticato io di lui si dobbiamo trovare il bambino dalle nevi dai si quello lì vai troviamolo troviamolo finito capitolo ok salva salviamo qui ok ci ha voluto di tempo per far starò cosa ragazzola come ho detto prima proviamo a iniziare il nuovo capitolo speriamo ci sia un specchietto lì davanti passiamo dentro andiamo a salutare l'infermierina sexy e vediamo se ci dà qualche arma nuova però non so se ci siano armi dentro quelle cassette forse solo munizioni o roba del genere ci facciamo qualche livello e cattiveri madonna proprio un bellissimo posto ecco perché è diventato così lei sa dove siamo questo centro è gestito da mio fratello ci farà entrare e pensi che ci sia tuo fratello in mezzo a sti zombie qua vabbè intanto tiriamo su tutto mi aspetti un attimo che devo tirare su le robe che va avanti oh cosa che cazzo che problemi hai aspetta un attimo ma allora che cazzo ne so dove devo andare io adesso ci sono mucchi di bivi allora di qua ok lì è caduta una bottiglia da niente si è una bottiglia stai tranquillo oh ok zombie dai vieni fuori bravo oh cazzo che grosso sto qua dai dai che ti esplodo la testa oh no non è neanche esplosa la testa ok nice non mi ha droppato niente neanche questo evviva però se noi lo bruciamo può essere che ci droppi qualcosa vediamo non andare giù ok vediamo niente schifo madonna ho sprecato un fiammito oh piano no che cazzo non avevo fatto così anche prima cosa ho trovato accecamento d'arto della besta agonia che acceca i nemici di luce violenta ok si possono uccidere da ogni direzione con una uccisione silenziosa ok bene è una è una bomba però dobbiamo curarci qua frammento map ok e qua munizioni quindi carichiamo la pistola intanto facciamo così dov'è quante ne abbiamo ok vai a posto dove possiamo andare adesso e viene avanti mamma mia prima vada solo no e dopo si incalza e si corro dove dobbiamo oh 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 what the fuck è un spettro quello lì che cazzo sta dicendo chi poi ah non so mica devi dirmelo a te è tuo fratello che ci stava ma che cazzo sta mangiando uno sono io lui è mio fratello Valerio il primo medico di tira piano eh 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 hai cricetti in testa che non girano più sulla ruota a te no no tua mamma tua mamma tua mamma dai fermi un attimo che mi metto il fucile a pompa ok mori schifo onto puzzone nelle palle ti sparo vaffanculo non puoi morire basta con giuda mori onto ok una granata ci ha droppato cosa sta succedendo cosa hai adesso ah vedi gli spirit lui e ricordi tipo il djv cos'è ah si stava trasformando il cazzo che brutta cosa che deve essere eh quanto allora lì c'è oh cazzo ho messo una chiave dentro per cosa dai basta ho visto la chiave ho visto la chiave posso tornare indietro lo schermato bravo quindi dobbiamo aprirgli la pancia a questo che bella cosa a che cazzo devo fare che cazzo devo fare che cazzo devo fare mi spieghi la la metti te la mano dentro però no io eh mamma mia fa un culo ma ti faccio esplodere la testa se posso adesso posso fargli esplodere la testa no abbiamo preso una chiavetta non so se sono sempre quelle solite che ci saranno però va bene ma io volevo andare la musichetta la musichetta ah qua si ma ma perché il bambino del neve di fasti ok andiamo ad aprire due cosetti con la chiave facciamo un livello 2 e poi terminiamo qua no aspetta sta succedendo qualcosa però non è come al solito no o si vabbè intanto era qua il posto giusto ciao signorina posso aprire qualcosa madonna mia ma perché è tutto sto rumore cazzo oi 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 cazzo succede ok apriamo questa qua uh punto esperienza 5000 è il disco proprio uno qua sotto siringhe ok quante ce ne sono madonna mia quindi possiamo tornare anche la prossima volta si vedete qua possiamo prendere altre munizioni e apriamo la prima in alto adesso di qua dai vai cos'è ah ok quindi dovrebbero essere si quelle stordenti vediamo accecamento scusate ok esplosivo e gli esplosivi sono una belva ok possiamo tornare a fare i livelli e poi torniamo indietro non far scherzi sono debole di cuore non di là dove no 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 cosa c'è qua non si può no non di là no 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 dimmi eh eh chi è che le ha palpato il sederino signoritas dai vado qua dentro cosa c'è jump scary arrivo 3 3 2 1 no no oh mio dio ok 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 Leslie ok 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 dove sei bambino ok 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 non ha un bel aspetto si prende a cura di sé finito così va bene ok almeno adesso possiamo correre vai andiamo a posto ragazzuoli ora se il video di oggi vi è piaciuto come solito lasciate pollizioni su commentate condividete ci vediamo alla prossima su David with T adesso lo so forse magari domani vi porto anche Alien Isolation cazzo tante serie devo cercare di avvantaggiarmi un po ciao a tutti